Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questa centotrentesima puntata del podcast di Marcosbox. Oggi con un vento che ne è cosa assurda, oh. E rieccoci qui in questa nuova puntata del podcast di Marcosbox a commentare con voi le principali notizie dal mondo del software libero open source. Anche questa puntata, come sempre, si pronuncia una puntata corta, almeno sulla carta, ma sono sicuro che, come al solito, il mio essere logorolico causerà un stragiupamento della puntata a oltre 20 minuti. Apriamo questa puntata parlando di Canonical, con una notizia che di sicuro farà felici tutti quanti gli utenti che utilizzano Ubuntu. Recentemente ha fatto notizia la pubblicazione su GitHub di un nuovo store applicazioni non ufficiali per Ubuntu scritto in Flutter. Gli utenti che l'hanno provato hanno potuto constatare che, seppur ancora in stato alfa, il nuovo software store è più reattivo, più intuitivo e soprattutto meno buggato rispetto allo store ufficiale presente, ad esempio, sull'ultima release di Ubuntu. Perché poi, diciamo, non è che ci vuole molto per essere migliori dello store di Ubuntu. Non so voi, ma io ogni volta che apro lo store di Ubuntu inizio a pensare perché l'hanno fatto così male, perché è così buggato, perché è così anche lento. Vabbè, lento lo sappiamo perché è lento, perché è in formato snap, come al solito, Canonical pubblica l'applicazione in formato snap senza ottimizzare. Vabbè, questo è un altro discorso. E, insomma, tutti quanti ci siamo imbattuti in questo problema dello store e tutti quanti abbiamo maledetto lo store di Ubuntu. Bene, questo store alternativo scritto in Flutter non ufficiale, a quanto pare è uno store ufficiale. Perché? Perché un utente su Reddit ha scoperto, navigando nei pacchetti, insomma, ha scoperto che questo store scritto in Flutter è andato a sostituire la versione attuale nel canale Edge dello Snap Store. Snap Store è il nome che ha Ubuntu Software, lo store dell'applicazione di Ubuntu. Quindi, se già volete provarlo fin da subito, questo store alternativo scritto in Flutter, potete provarlo sulla vostra Ubuntu con i comandi che trovate sulla guida che ho pubblicato su Marcos Box. Nella guida vi spiego sia come installare lo Snap Store da ramo Edge e vi spiego anche come tornare indietro e installare la versione quella classica, nel caso non vi piace questo nuovo store o magari se trovate dei bug o quant'altro. Trovate anche una serie di screenshot che mostrano l'interfaccia grafica di questo nuovo store scritto in Flutter che, diciamocelo, io m'ho visto, ancora non ho avuto modo di provarlo perché ultimamente sto su Endeavor OS con KDE, quindi non provo Ubuntu da qualche settimana. Devo vedere di trovare il tempo, magari metto su una macchina virtuale così gli do uno sguardo da vicino. Se l'avete già provato, fatemi sapere che cosa ne pensate. Abbiamo parlato di Ubuntu come non parlai dell'altra metà del cielo, ovvero di Fedora. Il Fedora Project ha annunciato il rilascio della versione beta di Fedora Linux 37, il cui rilascio in forma stabile è previsto per la fine di ottobre. Previsto perché sapete bene come si accade spesso con Fedora e le dati sono un po' fumose perché una delle feature di Fedora è quella di non arrivare mai in orario. Fedora 37 Workstation beta include l'ultima versione beta di Gnome 43 che porta con sé un nuovo pannello per la sicurezza, ottimizzazioni nelle applicazioni Gnome che sono state portate all'ultima versione del toolkit GTK che beneficiano quindi di prestazioni migliori e un aspetto più moderno. Troviamo anche un'edizione dedicata a Raspberry Pi 4 che adesso è ufficialmente supportata da Fedora Linux, compresa la grafica accelerata e troviamo poi i consueti aggiornamenti dei linguaggi di programmazione, delle librie, di Python, di Perl, di Gorong e quant'altro. Come sempre Fedora può essere scaricata sia nell'edizione principale ma anche nelle versioni, le spin, quelle con desktop environment alternativi. Trovate su Marcosbox un articolo dedicato con tutti quanti i link per poter scaricare sia la beta di Fedora 37 edizione Workstation, quella principale con Gnome che è il link per poter scaricare una delle spin con ad esempio KDE Plasma, XF-CMate, insomma, c'è anche l'edizione Cinnamon se volete provare qualche cosa di alternativa a Linux Mint. Fatemi sapere se l'avete provata questa nuova versione di Fedora, che cosa ne pensate? Lasciate un commento come sempre. Prima parlavamo delle spin dedicate a desktop environment alternativi di Fedora 37, come non parlare del nuovo rilascio della beta di KDE Plasma 5.26, il desktop environment più amato dai pinguini. La community di KDE ha annunciato il rilascio della versione beta di KDE Plasma 5.26. Questa versione beta, come sempre, è rivolta a tester, sviluppatore e cacciatore di banchi intenzionati a migliorare KDE Plasma 5.26 prima del rilascio della versione stabile che è previsto per il prossimo 6 di ottobre. Fra le novità principali introdotte su KDE Plasma 5.26 troviamo una versione Big Screen di Plasma pensata per utilizzo sui televisori. Plasma Big Screen è quindi un'interfaccia utente pensata per televisori e set top box e un launcher grande che fornisce un facile accesso a tutte quante le applicazioni e funzionalità installate. Se voi la vedete ricorda praticamente tutte quante quelle interfacce, quei launcher per set top box, ma che troviamo anche sulla Fire TV di Amazon. Plasma Big Screen è controllabile sia tramite voce che tramite telecomando. Troviamo poi un browser web pensato per integrarsi all'interno di Plasma Big Screen che ci consente di navigare su web usando soltanto il telecomando, quindi con un'interfaccia semplificata, con bottoni belli e giganteschi, con la possibilità di utilizzare i comandi vocali e quant'altro. Troviamo poi anche un nuovo lettore multimediare per la riproduzione di file locali su Plasma Big Screen chiamato Plank Player. Troviamo infine poi una serie di modifiche che riguardano insomma tutto in generale KDE Plasma, miglioramenti nei widget di Plasma che adesso sono ridimensionabili dai bordi o dagli angoli proprio come le normali finestre. E ricordano anche la dimensione da noi impostate quindi non dovremmo stare a fare ogni volta. Miglioramenti nel widget lato accessibilità, miglioramenti nel launcher applicazioni, nel menu applicazioni kick off, miglioramenti negli settaggi di sistema e ovviamente come di consueto costanti miglioramenti che vengono apportati alla sessione Wayland. Quindi al supporto a Wayland. Se siete ansiosi di provare KDE Plasma 5.6 potete scaricare l'edizione testing di KDE Neon che trovate su link dedicato che vi ho postato su Marcosbox. E sempre il team di KDE Neon ha rivelato che è in programma di creare presto una edizione di KDE Neon con una installazione dedicata di Big Screen. Speriamo che questa nuova ISO non vada a sottrarre troppe risorse al progetto di KDE Neon che già li vede un po' in affanno perché non so se seguite così il gruppo di KDE Neon. Hanno annunciato qualche tempo fa di stare lavorando la migrazione al ramo 22.04 di Ubuntu per KDE Neon perché KDE Neon è basata sul ramo LTS di Ubuntu. Hanno detto di stare lavorando però ancora non hanno rilasciato ad oggi 17 settembre 2022 ancora non hanno rilasciato la ISO aggiornata. Che stiano magari aspettando il rilascio di KDE Plasma 5.26 in forma stabile non lo sapremo mai perché quelli di KDE Neon non dicono le cose. Si stanno un po' zitti, lavorano nelle segrete. Magari se c'è qualche sviluppatore di KDE Neon all'ascolto fatemi sapere che cosa voglio in pentola entro quando arriverà la nuova edizione. Perché sono ansioso di ritornare su KDE Neon anche se devo dire mi sto trovando davvero bene con Endeavor OS e con KDE perché alla fine KDE è stabile. Endeavor OS è basata su Arch e Arch anzi perché di fatto è Arch con un repo aggiuntivo giusto per due stronzatine tipo wallpaper della distribuzione e qualche tool che serve per poter gestire Endeavor OS. Ma di fatto è Arch Linux quindi mi sto trovando bene perché alla fine su Arch non sto trovando bank. Se le aggiornate regolarmente è una distribuzione affidabile. Mi sono dovuto ricredere nell'utilizzo di questi giorni. Mi sono dovuto ricredere sulla distro. Anche se il mio cuore sapete sta sempre con Ubuntu e derivate. E passiamo adesso a una notizia che ha fatto inalberare il web. Conoscerete di certo l'estensione per Firefox, Chrome Edge, Opera e quant'altro chiamata I Don't Care About Cookies. È una estensione in grado di gestire in automatico i banner pop-up relativi ai cookie GTPR che è così famosa che addirittura è una delle estensioni consigliate anche da Mozilla sul suo store delle estensioni. È un'estensione che va avanti, che viene sviluppata da 10 anni quasi e che ha riscosso molto successo. Perché va a gestire i maledetti banner relativi ai cookie di terza parte che il normativo europeo ha voluto normale, ha voluto obbligare a tutti quanti i gestori di siti a mettersi in cavo di bannerini. Si vede la community, gli utenti, che cosa ne pensano di questi banner? La maggior parte delle persone sapete bene che cosa fa, si limita a cliccare su accetto oppure fa finta di non vederli, oppure si rivolge a estensioni perché non gliene frega niente andassi a leggere che tu utilizzi i cookie di analytics sul tuo sito. Gli interessa leggere le notizie, gli interessa leggere l'articolo, non è che si va a preoccupare più di tanto di questo lato della privacy, anche se la privacy è sempre importante. Però su questo uno non se ne frega perché ci sono ben altri problemi su web e nella vita reale. Perché vi sto parlando di queste estensioni? Torniamo a bomba. Perché lo sviluppatore Daniel Klandic, autore di questa estensione, ha comunicato l'acquisizione da parte di Avast. Daniel Klandic ha resicurato gli utenti sul futuro del progetto dichiarando che continuerà a portare avanti lo sviluppo dell'estensione e che l'estensione rimarrà gratuita. Ha anche chiesto agli utenti di non dare più donazioni, anzi mi sembra che sono già state sospesi in quanto non sono più necessari perché ci pensa Avast. Ovviamente la notizia non è stata presa bene da parte della community, che ha iniziato a lasciare recensioni negativi sullo store delle estensioni di Firefox, mettendo una stellina, dicendo disistere subito, venduto, Avast merda e solite cose che si dicono in questi casi. La gente non la prende mai bene queste decisioni. È come se non bastato uno sviluppatore indipendente ha già provveduto a forcare il progetto su GitHub. Ebbè, è cosa l'ordine del giorno nel mondo del software libero, penso sì. Voi che cosa ne pensate di questa notizia? Un bene o un male? Fatemi sapere, io ancora non ho una chiara idea delle ripercussioni che potrebbe avere una cosa del genere. Lo sviluppatore è stato trasparente nel comunicare subito, prontamente, l'acquisizione da parte di Avast. Non so Avast di fatto perché ha acquisito questa estensione, la integrerà quasi sicuramente all'interno dei suoi prodotti, però non capisco perché verrà mantenuta comunque gratuita. Non lo so, chissà come gestiranno loro, magari metteranno qualche funzione premium all'interno di Avast per quanto riguarda questa estensione. Non lo so, vedremo che cacchio faranno. Però mi viene da pensare che questa reazione esagerata che c'è stata da parte della community nel criticare subito lo sviluppatore non mi è piaciuta. Non mi è piaciuta perché magari questa è gente che non ha mai nemmeno donato un centesimo al progetto, non ha contribuito all'estensione, magari è gente che l'ha utilizzata passivamente questa estensione, ritenendo come al solito che è gratis e tutto mi è dovuto, anche se è gratis. Questa cosa è sbagliata, la vediamo tutti i giorni con creatori che fanno continui appelli a creatori di contenuti, per esempio su YouTube, disattivate il filtro per il bocco della pubblicità, disattivate i filtri di bocco della pubblicità sui siti, oppure gente che fa appello per donazioni e quant'altro sui propri progetti open source, perché mi rendo conto che c'è, non da parte di tutti, però c'è questa tendenza a dire è gratuito, non mi frega niente, tutto mi è dovuto, però senza che la gente non pensa magari che dall'altra parte c'è uno sviluppatore o un creatore di contenuti che dedica del tempo per le risorse, per le energie, investe denaro in hardware per portare avanti un progetto, per poter portare avanti un applicativo, un progetto visivo o quant'altro. Anche quello ha diritto di poterci anche campare, visto che spesso e volentieri lo sviluppo di questi tipi di applicazioni porta via tanto tempo, non è il solito ritaglio di tempo dei 5 minuti. Per me hanno diritto questa gente a ricevere un sconto economico. Fatemi sapere anche di che cosa ne pensate a riguardo di questo. Fatemi sapere se voi utilizzavate questa estensione e se l'avete presa male anche voi, se avete maledetto lo sviluppatore, se avete maledetto Avast, vabbè. Lasciate un commento sulle pagine di Marcosbox. E concludiamo la puntata, dopo aver parlato di supportare quant'altro, sembra che è una cosa fatta apposta, ma in realtà non è voluta quello sfogo di prima. Concludiamo la puntata parlando di Atlas VPN. Buone notizie per tutti quanti gli utenti Linux intenzionati di utilizzare Atlas VPN, perché adesso Atlas VPN è disponibile per Linux. Atlas VPN è dotata di protocollo WireGuard, ma non riuscirò mai a pronunciare. Consente di connetterci a server speciali. Oltre ai normali server, gli utenti Linux possono usufruire di server ottimizzati per lo streaming, nonché di poter sfruttare i server esclusivi SafeSwap e MultiHop, quindi per una maggiore privacy online. Attualmente il supporto a Linux è limitato a Ubuntu e derivate, perché viene di fatto rilasciato un pacchetto DEB, però non preoccupatevi, perché Atlas VPN prevede di aggiungere il supporto a data di distribuzione nel prossimo futuro, oltre che di arricchire di funzionalità Atlas VPN per Linux con funzionalità come il Kill Switch. Vi ricordo che se siete intenzionati a provare il servizio, è possibile abbonarvi ad Atlas VPN utilizzando il mio codice referral, che vi dà diritto uno sconto sul piano da due anni. Oltre a quello, trovate su Marcos Pass anche un link agli altri due servizi, VPN, NordVPN e SafeShark, c'è un banner sulla testa, i bisogni di una VPN, che cliccandoci sopra, cliccando sui link referral, potete abbonarvi a questi servizi, o rinnovare i vostri servizi se siete già abbonati, e sfruttare lo sconto, che sapete bene vi è offerto a tutti quanti quelli che vi chiedono di poter entrare come partner di questi servizi VPN, però così facendo, se utilizzate il mio link referral, supporterete il sito, supporterete Marcos Box, perché vi darà una piccola percentuale. Ecco questa ultima notizia, termina qui questa centotrentesima puntata del podcast di Marcos Box, come sempre vi ricordo che potete seguirmi sulle principali piattaforme social, trovate la pagina Facebook, trovate il canale YouTube, trovate la mia pagina LinkedIn personale, trovate la pagina, il profilo Twitter, potete seguirmi su tutti quanti i servizi podcasting, perché è presente su Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts, e chi più ne ha più ne metta, trovate anche la skin ufficiale per Amazon Alexa, quindi se siete... No, 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 stoppati, mi stava partendo quella disgraziata, devo ricordarmi sempre di disattivare questo cacchio di microfono quando registro, e vi ricordo in particolare che potete seguirmi su Telegram, su Telegram trovate tre modi per potermi seguire, c'è la pagina ufficiale di Marcos Box su Telegram, che potete utilizzare anche a modi feed per i nuovi articoli, trovate poi la pagina dedicata alla community Telegram di Marcos Box, nella quale potete scambiarvi consigli, trucchi e quant'altro, ma non si parla soltanto di Linux, si parla anche di tanto altro, trovate infine un canale Telegram dedicato alle offerte Amazon, vi ricordo, come sempre, come funziona il referral Amazon, se acquistate un prodotto da uno dei link presenti sul canale Telegram, o utilizzate voi manualmente il referral Marcos Box 2021, potete acquistare un prodotto, non pagarlo praticamente sempre lo stesso prezzo, Amazon mi darà una piccola percentuale, e questa verrà utilizzata dal sottoscritto per migliorare l'attrezzatura, sopperire ai vari guasti hardware, che come sapete sono agordie del giorno sui miei computer, io, sapete, quei miei elettori più intimi mi conoscono, io sono un portatore sanno di bug, quindi trovo bug sia software che hardware in praticamente tutto, e mi devo far vedere da uno bravo. Va bene, lunga vita e prosperità a tutti quanti, e ci riascoltiamo alla prossima settimana forse, o fra due settimane, sapete che la costanza non è una delle mie virtù, ciao ciao!